Salve a tutti, in questo video vi voglio parlare del controllo generale che faccio nel mio allevamento ogni due mesi dal momento che metto tutti i canarini diciamo nelle voliere a fine cove, perché durante le cove naturalmente le coppie sono singole e quindi è anche più facile osservarle e se tutto va bene si vede anche dal fatto che portano avanti i piccoli. Se c'è qualche problema durante le cove quindi sono più facili i canarini che possono stare male da individuare. Quando invece noi le mettiamo nelle voliere, come nel mio caso diverse voliere con più soggetti, andremo ad effettuare ogni due mesi, come dicevo, un controllo generale. In che cosa consiste questo controllo generale? Fondamentalmente innanzitutto vanno presi in mano tutti i canarini, uno per uno, quindi ci vuole del tempo, naturalmente ognuno in base ai canarini che ha, io li prendo praticamente tutti uno a uno, soffio le piume del ventre e quindi controllo che non ci siano macchie nere sull'addome, controllo che non abbiano il petto a lama, controllo che non abbiano le unghie troppo lunghe e che non siano rimaste delle scaglie dopo il trattamento che ho fatto con la crema di callos e poi controllo se non ci sono altri problemi come la lunghezza del becco che in realtà nel nostro allevamento non si verifica mai, forse l'1% dei casi, quella è una disfunzione dovuta al fatto che mancano delle sostanze al canarino, quindi sono casi veramente isolati ma in linea di massima quello che andiamo a controllare, ripeto, sono le condizioni generali di salute, ossia che il canarino naturalmente sia bello vigile e vispe, poi il petto che non si allama e naturalmente il ventre che non abbia delle macchie scure e questo ci consentirà che cosa? Ci consentirà di verificare che i canarini che teniamo nelle voliere stanno tutti bene, quindi se riscontriamo un problema naturalmente di unghie lunghe le andremo a tagliare, se riscontriamo un problema del becco la stessa cosa, ma se vediamo soggetti che hanno delle macchie nere o che sono sporchi di feci li andremo ad isolare e poi in base a quello che reputeremo o nel caso chiamiamo un veterinario, cureremo quel soggetto perché i soggetti in una colonia che hanno dei problemi vanno isolati, anche se vedete soggetti che sono praticamente, che stanno fermi, che dormono di giorno, un canarino non dorme mai di giorno, a parte che non sia un canarino proprio adulto, ma non dormono mai di giorno, se un canarino dorme c'è qualche problema, quindi ecco questo controllo generale io ve lo consiglio, soprattutto a chi ha canarini a fiuma lunga come le ho io, come sono i Gloster, come sono i Norwich, come possono essere i Crest, consiglio di fare questi controlli perché in questi canarini si possono creare anche dei tappi che non si possono vedere ad occhio nudo perché sono coperti dal fiumaggio e può succedere che dei canarini muoiano tappati senza che noi ce ne accorgiamo, ma poi parlerò del tappo in un altro video, in un'altra situazione perché è un argomento che conosco molto bene dato appunto che levo i Gloster da 15 anni e da un bel po' di anni anche i Norwich, quindi so che cos'è un tappo, come si crea, come si può risolvere partendo dal presupposto che i canarini non devono fare il tappo e quando stanno bene praticamente non fanno mai il tappo, quando lo fanno il tappo scusatemi sarebbe un accumulo di feci che si crea sopra la cloaca e poi va piano piano a tappare proprio la cloaca stessa fino a impedire, tra virgolette, di fare la cacca al canarino, quindi morirà distente e morirà anche in un modo brutto, quindi ecco questo è una situazione che io anche prendendo adesso con questo controllo generale i canarini in mano mi accorgo se c'è questo problema nei soggetti e se riscontro che qualche canarino non defeca bene, subministro subito il mio olio, poi ognuno può trovare la soluzione che reputa più opportuna, io risolvo il tappo con il mio olio, quindi dopo che faccio due o tre somministrazioni in linea di massima tutti i canarini tornano a defecare in modo naturale, anche perché l'olio in questo caso ha un effetto depurgativo e depurativo, ma ha anche un effetto purga, quindi andiamo a liberare l'intestino dei soggetti. Io vi ringrazio per l'attenzione, metterò nel mio nuovo libro proprio come paragrafo il controllo generale inserito in un capitolo, quindi vi spiegherò proprio dettagliatamente quello che vado a controllare, compresa qualcosa che mi è più dovuto sfuggire. Grazie a tutti e a presto.